Salve ragazzi! Volete sapere la band di oggi? Vediamolo con questo video allora! Esatto ragazzi, loro sono Ia Perfect Circle, una band rock stanley dance del 1996, formatasi a Los Angeles, loro sono nati dalla cooperazione di Billy Overdale e Maynard James Keenan, che sarebbe, questo tizio pelato che vi faccio vedere nella foto, sarebbe il frontman dei Tool, ovvero partecipa anche alla cooperazione, partecipa anche come membro effettivo della band di Ia Perfect Circle, solo con una piccola differenza, che quando canta nei Tool lo vediamo sempre con quel classico abbigliamento da pelato, mentre per quanto riguarda Ia Perfect Circle sia nelle apparizioni, ovvero live e video musicali, appare con la parrucca con i capelli lunghi. Purtroppo ragazzi è un tipo molto singolare, noi già lo sapevamo già e non possiamo farci niente, non possiamo far altro che apprezzarlo per questo. La nascita Ia Perfect Circle avviene quando Maynard conobbe Billy e gli chiese di incidere con lui alcuni pezzi. Qui Maynard si accorge della somiglianza di alcuni pezzi con i Tool, ovvero un sonno malinconico, però con una variante melodica. Con l'arrivo di altri componenti nacquero così Ia Perfect Circle. Firmando un contratto con la Virgin Record, vide così la luce il primo album, con il primo singolo Judith, un album prettamente variegato da sonorità a cube e allo stesso tempo solari e romantiche. Ma andiamo a vedere insieme gli album un po' più nel dettaglio. Dunque ragazzi, il primo album è stato pubblicato nel 2000 e prende il nome di Merden Homes, premiato come disco di Platino per gli ottimi risultati, specie negli Stati Uniti. Tre anni più tardi abbiamo 13th Step. L'anno successivo abbiamo Emotive, ultimo album distante ormai 9 anni, quasi 10, come album ufficiale. Mentre nel 2009 hanno pubblicato un EP chiamato Deep Cuts. Dunque ragazzi, sempre parlando, è venuto fuori che Ia Perfect Circle hanno stabilito di prendersi un periodo di pausa. Questo perché? Perché Maynard, ad esempio, doveva continuare il tour con i tool, gli altri componenti avevano dei progetti oltre Ia Perfect Circle. Bill, ad esempio, stava scrivendo del nuovo materiale per quanto riguardava un progetto solista. E così via. L'anno successivo, Maynard, in un'intervista, dichiara ufficialmente che Ia Perfect Circle si sono sciolti. Quattro anni più tardi, Maynard annuncia che il 2010 è l'anno di Ia Perfect Circle, ovvero che ci sarà un nuovo album e un nuovo tour. Ma fra tanti detti, promesse e probabili conferme siamo arrivati alla luce che ancora niente è avvenuto. Ovvero siamo arrivati al 2013 dove ancora niente è stato confermato. Tutto quanto è rimasto in aria. Noi ragazzi non possiamo far altro che sperare, in un possibile ritorno, non possiamo far altro che aspettare, con trivedante attesa, il loro fotitico ritorno. Ragazzi, dal mio punto di vista, per quanto mi riguarda, io li ho conosciuti con due canzoni. La prima è l'indiscutibile Immagine, ovvero la cover di John Lennon. E poi la seconda canzone è stata The Outsider, che il video musicale è molto bello. Purtroppo io li ho conosciuti alla fine. L'ho conosciuti alla fine perché? Perché io li ho conosciuti ascoltando l'ultimo album della loro piccola discografia, ovvero sono partito al contrario. Ho ascoltato prima Emotive e poi tutti gli altri, sono andato al contrario. e devo dire che giustamente hanno una sonorità diversa rispetto alle altre. Apro una parentesi dicendo che conosco i Tool, grande band, non si mette in dubbio nulla di questa band, grande band, grande frontman, grande tutto. Però dal mio punto di vista, dai miei gusti musicali, non è proprio una band che ascolto tanto. Ecco, non rientra nelle mie band preferite. L'unico brano che ho apprezzato di più, l'unico e solo brano che ho apprezzato dei Tool è stato Vicarius. Purtroppo ragazzi quando uno viene a contatto con alcune band, e non parlo di tutte, di alcune, perché ti capita di ascoltarle. Che siano band rock, che siano band heavy metal, o che comunque riguardino la cerchia blues, jazz, soul. Magari ti capita quella band, una si aspetta, per esempio, io parlo dal punto di vista rock e heavy metal. Ti capita, magari una si aspetta, quella band, la band rock e heavy metal, dice, ha un sound, un'energia che ti prende, che ti coinvolge. Invece non è così, perché ci sono alcune band, come appunto The Perfect Circle, tranne alcune canzoni, hanno delle sonorità cube, malinconiche, direi quasi tristi. E ci sono appunto alcuni gruppi musicali, alcune band musicali, che bisogna ascoltarle più di una volta. Ci sono magari quelle che ti prendono subito, a primo impatto, hanno un impatto molto forte, ti piacciono, ok. Mentre ci sono alcune band dove tu il brano, i brani, li devi ascoltare per più e più volte, per poterne capirne veramente il sound, la qualità e soprattutto la natura di questa band in tutta la sua, in tutta la sua natura. che posso dire? Tutto qua. Ragazzi, per oggi era tutto, loro sono i Perfect Circle, io vi auguro un buon ascolto, qua sotto vi linkerò i due brani, ovvero Immagine e The Outsider, io vi riauguro un buon ascolto, noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao ragazzi!